Aumenta il numero di scuole primarie in provincia di Padova che rischiano di chiudere per il prossimo anno scolastico a causa del basso numero di iscritti. Emblematico il caso della scuola di Teolo sui Colli Euganei dove il numero minimo di iscritti alla prima deve essere 15 e invece è fermo a 10. Tanto che due nonne ultraottantenni si sono iscritte un po' per dare una mano, un po' come provocazione. Il marito di una delle due è pronto ad accompagnare a scuola ogni giorno le combattive nonnine. Il problema è quello della denatalità, è un problema grave, è un problema che non si è mai affrontato. Si fanno i conti oggi quando sono conti numeri molto drammatici. Certo sappiamo che chiudere le piccole scuole vuol dire anche chiudere dei presidi di identità e di territorialità. Dal Veneto intanto parte la proposta di una nuova offerta formativa che si adatti alla situazione per tenere vivo il rapporto del territorio con le scuole. Certo prima bisogna convincere le istituzioni e non solo. Noi stessi a far più figli, le amministrazioni a non pensare oggi che tutto si debba fare nella costruzione di grandi scuole. Oggi forse bisogna ristrutturare quelle piccole e fare in modo che gli insegnanti abbiano anche la possibilità di fare un percorso formativo diverso da quello che abbiamo avuto fino ad ora. E così ora grazie alle nonne e a qualche bambino si è riaccesa la speranza per la scuola di Teolo. Il dirigente scolastico si è preso un po' di tempo per cercare di salvare l'istituto, una speranza che si allarga ad altre scuole del Veneto. Per tutte le piccole scuole mi viene da dire, non solo per quella di Teolo.